Meryl! Meryl! Snake? Sei proprio tu? Snake, sei vivo! Grazie a Dio! Meryl! Meryl, tutto bene? Tutto bene? È tutto quello che hai da dirmi? Meryl, deve essere stato terribile! Poteva andare peggio. Non mi sono arresa alla tortura. Tortura? Ne ha cose ancora peggiori. Io stavo combattendo, Snake, proprio come te. Sei una donna molto forte. Combatterli mi ha fatto sentire più vicina a te. Era come averti al mio fianco. Sei stato tu a darmi la forza per lottare. Avevo tanta paura. Mi dispiace. Non dirlo. Ma quell'orrore mi ha fatto capire una cosa. In tutto quel dolore e quella vergogna, c'era solo una cosa di cui ero certa. Un'unica speranza a cui mi sono aggrappata. Una speranza che mi ha tenuta in vita. Snake, volevo vederti di nuovo. Meryl... è il mio Kopec. Snake, sono io! Otacon, buone notizie. Meryl sta bene. Ottimo, l'hai salvata ragazzo. Gran bel lavoro. Ma ho anche delle pessime notizie. Stiamo per essere bombardati. Oh no! Suppongo che siamo considerati sacrificabili. Non c'è un modo per uscire da qui? Un'uscita. Sì, certo. Puoi prendere la galleria di carico e raggiungere la superficie. Vicino a te c'è un parcheggio. La galleria per la superficie parte da lì. Dalla porta di fronte? No. È un piccolo ingresso a ovest di quella. E le misure di sicurezza? L'ho appena sbloccata. Con chi credi di stare parlando? Penserò io ai sistemi di sicurezza lungo il tuo percorso di fuga. Ma che cosa farai tu? Io. Me ne starò qui. Ma sei pazzo! Ho bisogno di un po' di tempo per curare il tuo percorso di fuga. Ma... Sbloccare le porte di sicurezza è un lavoro difficile. Solo io posso farcela. Otacon. Non preoccuparti. Io resto qui. Ho deciso. Otacon. Questo è un rifugio corazzato ma loro stanno per usare una bomba nucleare perforante. Non sopravviverai. Non ho più voglia di rimpiangere il passato. La vita non è solo una perdita continua. Snake, ora sono una persona completa. Ho trovato una ragione per vivere. Bene. Ma non morire per me. Lo stesso vale per te. Prenditi cura di Meryl. D'accordo? Lo farò. Ora devo andare. Prometto che farò qualcosa per il tuo percorso di fuga. Grazie. Grazie. Come suona bene. Mi fido di te. Grazie, Snake. Leviamoci da questo maledetto posto. E lui? Dov'è Otacon? Lui... sta combattendo ora. Con se stesso. Per diventare l'uomo che vuole essere. Sta combattendo anche per noi? Sì. E non voglio che lo faccia inutilmente. Neanch'io. Meryl! Snake. Meryl. È cominciato. Devo essere pesante, eh? Sembra che dopo tutto dovremo rinunciare alla scena d'amore. Sembra di sì. Che peccato. Usciamo di qui. Snake, fuori si gela. Ti servono dei vestiti. La mia tutta dà infiltrazione. Fai presto. Muoviti! Niente male, Snake. No, non mi sono giusto. Ma che cosa! Meryl. Tutto a posto? Sì, solo qualche livido. Meryl, riesci a muoverti? È bloccata. Non posso muovermi. Che cosa sarà successo a Liquid? Non riesco a vederlo. Liquid è morto. Oh oh. Snake! Snake! Die. Die. Se è morto, significa che... Non dirlo, Snake. Che è successo al bombardamento? Nessun bombardiere stealth in vista. Snake, riesci a sentirmi? Colonello! Stai bene? Colonello, che è successo? Il segretario della difesa è stato arrestato. Pensionamento anticipato. Arrestato? Sono riuscito a mettermi in contatto col presidente. Il Metal Gear, l'esperimento, tutto quanto. Il segretario della difesa stava agendo per conto proprio. Da solo? Che è successo all'incursione aerea e all'attacco nucleare? Gli ordini sono stati annullati. I F-117 e i B-2 Spirit sono tornati alla base. Ho di nuovo piena autorità sull'operazione. Capisco. A Washington non sono abbastanza stupidi da usare le bombe nucleari per coprire qualche segreto. Me lo stavo giusto chiedendo. In ogni caso, il pericolo è finito. Grazie, Snake. Colonello, puoi dormire tranquillo. Meryl sta bene. Davvero? Oh, grazie. Grazie tante, Snake. Snake, mi spiace di averti nascosto molte cose. Non c'è problema, colonnello. Snake, non sono un colonnello. Sì, ricordo. Ho un regalo per te. C'è una motoslitta vicino a te. Mei Ling l'ha vista dalle foto via satellite. In questo periodo dell'anno, i ghiacciai sono piuttosto tranquilli. Dovresti riuscire a superarli senza problemi. Scommetto che i ragazzi della DIA e della NSA pensavano che non saresti mai tornato indietro vivo. Neppure io. Meglio che non mi faccia vedere da quelle parti. Non c'è pericolo. Voi due siete ufficialmente morti dopo che la vostra jeep è affondata nell'oceano. Beh, non è troppo lontano dalla verità. E c'è un elicottero che vi aspetta sull'isola Fox. Il dottore Al Emmerich dovrebbe essere da qualche parte nella base. Voglio che qualcuno lo porti qui. Capisco, ci penso io. Va bene, Roy. Andrà tutto bene? Non preoccuparti. Ho una polizza di assicurazioni. Una copia stampata di tutti i dati di Mei Ling. In che resteranno in mia mano, io, tu e Mei Ling non avremo problemi. La batteria di quei nanoidi si scaricherà presto. Non potranno seguirci. Credo che non ci incontreremo più. Non si preoccupi. Un giorno passerò a visitarla. Davvero? Ci conto. Roy, c'è una cosa che vorrei sapere. Cioè? Una cosa su Fox, dai. Mary, il starà bene. Non era inclusa nel suo programma. Ma io? Ho ucciso Liquid. Naomi ha detto che vuole parlarti a quattro occhi su questo argomento. Come sta? Non ti preoccupare. Ora ti passo Naomi. Snake, sono io. Naomi. Ho sentito di mio fratello. Mi spiace. Ma aveva un ultimo messaggio per te. Eh? Mi ha detto di dirti di dimenticarlo e di andare avanti con la tua vita. Franky ha detto questo. Sì. E ha detto anche che ti vorrà sempre bene. Naomi, tuo fratello ha appena salvato te, me e il mondo intero. Ha combattuto con ogni grammo di forza che gli restava in corpo. Forse... Forse ha finalmente trovato un po' di pace. Ma non era davvero più lui. Da quando ha combattuto con te a Zanzibar, è diventato come un fantasma. Un fantasma alla ricerca di un posto per morire. Naomi, anche Liquid è stato ucciso dal Fox Dye. Che puoi dirmi al riguardo? Quando morirò? Dipende da te. Che cosa vuoi dire? Tutti muoiono quando il loro tempo è scaduto. Sì, ma quando scadrà il mio? Sta a te decidere come usare il tempo che ti resta. Vivi, Snake. È tutto ciò che posso dirti. Ogni persona nasce con il destino scritto nel proprio codice genetico. Non può essere cambiato. È immutabile. Ma la vita non è solo questo. Finalmente l'ho capito. Ti ho già detto il motivo per il quale mi sono sempre interessata dei geni e DNA. Perché volevo scoprire chi ero. Da dove ero venuta. Pensavo che, analizzando il mio DNA, avrei potuto scoprire le mie origini, il nome dei miei genitori. E pensavo che, una volta che ci fossi riuscita, avrei avuto chiaro davanti a me il percorso da seguire nella vita. Ma mi sbagliavo. Non ho trovato niente. Non ho imparato niente. Proprio come i soldati genetici, puoi inserire in loro tutte le informazioni genetiche che vuoi. Ma non puoi rendere invincibili. Ora il massimo che posso dire del DNA è che governa il potenziale di una persona, il suo destino potenziale. Non devi lasciare che il tuo destino ti incateni a sé, che i tuoi geni ti dominino. Gli umani possono scegliere la vita che vogliono vivere. Snake, che tu sia o meno nel programma Fox Dye non è importante. La cosa importante è che tu abbia scelto la vita. E allora, vivi. Lo pensi anche tu, Snape? Non ti preoccupare, anch'io voglio scegliere la vita. Fino a oggi ho sempre cercato un motivo per vivere. D'ora in poi, però, vivrò e basta. I geni esistono per trasmettere i nostri sogni e le nostre speranze nel futuro, attraverso i nostri figli. La vita è un collegamento con il futuro. Tutta la vita. Amandoci l'un l'altro, imparando l'uno dall'altro, è solo così che possiamo cambiare il mondo. Finalmente l'ho capito. Il vero significato della vita. Grazie, Snake. Guarda, ho trovato questo. Teniamolo con noi, come ricordo. Di cosa? Un ricordo di una missione vittoriosa oppure della prima volta che ci siamo incontrati? Un ricordo di come vivere. Fino a oggi sono vissuto solo per me stesso. La sopravvivenza è stata l'unica cosa di cui mi si è mai preoccupato. Non sei l'unico. Per tutti è così. Mi sentivo veramente vivo solo quando fissavo la morte negli occhi. Non lo so. Forse è scritto nei miei geni. Ora che accadrà, che cosa dicono i tuoi geni del futuro? Forse è arrivato il momento che io viva per qualcun altro. Qualcun altro? Sì. Qualcuno come te. Forse è questo il modo giusto di vivere. Allora, dove andiamo, Snake? David. Mi chiamo David. Ok. Dove andiamo ora, Dave? Penso che sia ora di cercare un nuovo sentiero nella vita. Un nuovo sentiero? Un nuovo scopo. E lo troveremo? Lo troveremo. So che lo troveremo. Che animali sono? Caribù. Per gli Aleutiani il Caribù è il simbolo della vita. Presto sarà primavera. Anche per noi. Sì. La primavera porta ovunque nuova vita. È il tempo della speranza. Ho vissuto qui per molto tempo. Ma l'Alaska non mi è mai sembrata così bella. Il cielo, il mare, il Caribù e più di tutto. Tu. Credo che questa nuova vita mi piacerà. Avanti. Godiamoci la vita. e che cresci realizzando la vita. Grazie a tutti.